bentornati 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 sul canale dunque vince l'italia vince 2 a 1 possiamo dire l'italia intanto se vedete vedete un po un naso gonfio non è niente di strano non è niente se è una pallonata tra bocca e naso oggi sangue affiotti ho annaffiato il campo il campo e il sangue il sangue è rosso e invece oggi ho visto tanto sangue azzurro tanto sangue blu in in campo in quella del Westfalenstadion di Dortmund perché piace chiamarlo così non signal iduna park che è una roba sembra un centro commerciale e al Westfalenstadion di Dortmund parte gol subito dagli azzurri cappella clamorosa di Di Marco con le mani dopo cinque secondi record record gol record perché perché è il gol più veloce della storia europea segnato dall'albania e subito dall'italia mi passerà la storia il gol di bairami che non interisti evidentemente già abbiamo qualcosa con i bairami perché ogni volta che che gioca contro contro interisti in generale visto che oggi c'erano diversi nazionale azzurra si ricorda di essere un giocatore di qualità già lo ricordo ai tempi dell'Empoli poi col sassuolo quest'anno proprio segnato a Zommer e adesso si è ripetuto subito contro i neri azzurri e quindi con la Spagna che aveva vinto 3 a 0 contro la Croazia con con un gol subito dopo cinque cinque secondi già si ascoltavano le 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 solite litanie eppure l'Italia dopo dopo trenta secondi cioè dopo praticamente un minuto e mezzo dal dall'inizio della partita ha avuto già la palla gol per l'1 a 1 erroraccio di di Pellegrini dopo tocco pregevole di assistenza più che tolto di assistenza pregevole di di Scamacca Pellegrini creata una ala offia che essa è spenta sul fondo e già se ascoltai ho visto la partita su Sky e quello che ho sentito non mi è piaciuto per niente io lo addebito principalmente al al fatto di essere anche tifosi della nazionale quindi lasciarsi prendere dall'emotività del momento e sembrava tutto nero siamo partiti malissimo e non ci sta riuscendo niente è certo che cominciare così un europeo non va bene questo pure dopo la 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 palla gol di Pellegrini che poteva pareggiare venite dopo dopo trenta secondi il gol di Bairami e andava tutto male andava tutto male pareggia bastoni era solo questione di tempo l'Italia stava schiacciando ma come un secondo prima era la cadastro proprio vabbè usciamo fuori l'Italia in realtà l'Italia ha giocato benissimo l'Italia ha giocato benissimo ha pareggiato con bastoni subito ha raddoppiato subito con barella quindi un po' hanno fatto un po' tutti gli interisti nel bene e nel male di Marco devo dire che a parte poi quella quella stupidata sequisquipedale dopo pochi secondi poi ha giocato una partita più che più che discreta ha messo un paio di palle molto interessanti è andato dopo dopo il pareggio anche vicino a far segnare con un bel cross con un taglio il solito stop a seguire clamoroso che fa di Marco quindi alla fin fine anche la partita di Marco nonostante quell'errore enorme secondo me è positiva segna appunto bastoni dico di testa segna barella col bellissimo mezzo esterno sul primo palo a girare imparabile per stracoscia barella migliore in campo per distacco molto bene anche chiesa a destra il problema è che a destra deve rientrare sul sinistro già lui non ha una tecnica eccezionale col destro avesse tecnica sarebbe veramente un top super chiesa peccato che gli manca qualche fondamentale evidente un po rudimentale a livello proprio di qualità pura sia negli appoggi che nel nel calcio in porta perché poi quando becca la palla fa male nell'uno contro uno e comunque nonostante essere giocato a destra ha giocato molto molto bene molto bene chiesa molto bene anche giorginio finché ha retto perché poi poi è calato ma nel primo tempo l'Italia poteva chiuderlo tranquillo ma proprio serena serena sul 5 a 1 che calcolate due gol l'azione ancora solo 0 a 1 di pellegrini palo di frattesi e non ricordo un altro un altro tiro di 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 ah e scamacca scamacca da uno e l'uno contro uno si fa rimpallare per non parlare poi dei dei cross di di marco del colpo di testa mancato di pellegrini insomma mettendo solo proprio le palle col clamorose l'Italia poteva chiudere 5 a 1 l'Albania non ha visto palla non ha veramente non ha donnarumma a parte la parata poi nel finale su manai perché abbiamo capito che si pronuncia manai ma sembra strano dico manai e non ha fatto una parata ma proprio parte lanci lunghi ogni tanto qualcosa perché pure la Scozia ieri qualcosa ha fatto invece l'Albania proprio 0 0 0 dopodiché alla fine rischi comunque di andare a pareggiare perché perché poi fatalmente ha ricordato un po' l'Inter di Inzaghi del non di quest'anno ma dei primi due anni ha creato tantissimo l'Italia soprattutto nei primi 45 minuti ma anche nella prima metà della ripresa credo veramente tanto veramente penso un gol è almeno 6 7 vale gol limpide limpide e non è riuscito a concretizzare poi quando non concretizzi e resta il risultato sul 2 a 1 scusate va da sé che poi un rimpallo una palla lunga la disattenzione la stanchezza non mi sono piaciuti i cambi di spalletti sono sincero partita aveva letta benissimo interpretata benissimo in campo dai giocatori i cambi finché metti cambiaso per chiesa vabbè cristante per pellegrini non mi è piaciuto per niente cristante in questa squadra a meno di situazioni strane tipo giochi con la spagna sai che sono loro col possesso e magari la metti un po più sul fisico tu però non c'entra niente cristante se vuoi giocare in questo modo non sto criticando il valore di cristante perché è uno prezioso è uno generale è uno che se tu lo metti in mezz'ala sa anche inserirsi ma se vuoi giocare così cristante non ci azzecca niente niente e infatti barella e giorgigni sono stati perfetti peraltro d'italia difendeva attaccava creando a tre come era presumibile con chiesa tutto a destra di marco tutta a sinistra bastoni centrale tra calafiori sul centrosistra di lorenzo sul centrodestra giorgigno barella e poi appunto pellegrini e scamacca ma più frattesi che si inseriva invece in fase non possesso difendeva 4 1 4 1 4 5 1 come vogliamo chiamarlo con giorgigno centrale in mezzo a barella e frattesi pellegrini tutto a sinistra chiesa tutto a destra con la difesa una linea qua e cristante non c'entra niente soprattutto se poi di allargare barella che era visibilmente stanco lo sappiamo barella non si è allenato benissimo aveva direttamente in discussione la sua partecipazione gli europei ho sempre detto ma non pare che ci sia tutta questa sembra un po d'allarmismo esagerato in effetti avete visto che razza di prestazione ha tirato fuori benino scamacca benino scamacca lavora spesso per la squadra ha delle intuizioni vede calcio è un giocatore che è una punta che vede calcio e fa giocare bene tutto manda in porta tanti compagni quindi non vedrei la prestazione scamacca come negativa è chiaro che lì devi far gol il centravanti uno contro uno visto ieri fieldkrug gli sono arrivati due palli ha fatto due gol entrato quello che vuoi pim spacca la porta scamacca da quel punto di vista di essere un po più cattivo perché può esserlo e deve mettere quella malizia quella cattiveria perché altrimenti ha tutto il resto ha tutto detto di chiesa detto di di marco fra anche a frattesi mi è mancato un briciolo di 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 spunto finale cosa non mi manca mai certo lì sta cosa ha fatto una parata clamorosa sul lob che era era corretto bene nel fraseggio migliorabile giorgigno molto 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 bene poi è calato e crollato ecco tornavo a dire i cambi che i primi due cristante cambiaso per chiesa e pellegrini non l'ho capito non mi sono piaciuti reteghi nullo avrei messo raspadori più allegare il gioco capisco la volontà di alzare i centimetri mettere più fisicità per andare a fare la guerra no cristante reteghi però anche poi l'ultimo d'armian mettendola a parte sono delle mani del gioco di dolare al posto di di lorenzo che non è quel di lorenzo che aveva spalletti lo vedi che viene da una stagione con problemi ha fatto bene ha fatto bene lorenzo perché è stata una partita di totale dominio e quindi non ha sofferto tanto in anticipo mi è piaciuto stasera devo essere sincero di lorenzo io avrei fatto partire d'armiana per tutto quello che abbiamo visto però poi però metti d'armiana a sinistra così molto boh non c'è ai el sharawi ai zaccagni si è abbassato troppo è un errore secondo me una leggerezza più che un errore spalletti deve deve fare molta attenzione abbiamo visto spalletti lo conosciamo e ogni tanto ha queste questi passaggi a vuoto su sulle letture durante i match di di una squadra che invece aveva messo in campo in maniera strepitosa quindi anzi il gol subito in subito in avvio ha anche dato maggior risalto alla prestazione perché sai dare subito sotto non è facile un debutto con uno stadio quasi completamente a favore del del tuo avversario quindi devo dire questa azione veramente piaciuta non mi aspettavo forse anche per questo non mi aspettavo in italia così spigliata così brillante così dominante con un avversario comunque scorbutico che oggi è sembrato poca cosa come ieri è sembrata poca cosa la scozia ma vi assicuro che scozia e albania sono due squadre serie e poi magari faranno zero punti prenderanno botte da orbi però in realtà sono squadre serie l'italia quindi molto molto bene perfettibile soprattutto in alcuni meccanismi difensivi perché ha subito pochissimo ma perché ha sempre avuto la palla ma quando la palla ce l'ho da albania io ho percepito ancora qualcosa che non è stato registrato appuntino fisiologico soprattutto nella fase iniziale di questi tornei e ai due mancini si può giocare tranquillamente con due mancini ma il problema non è tanto i due mancini il problema è bastoni che è vero che in fase di possesso ti fa il centrale il regista va bene ma in fase non possesso ti fa il centrodestra e già lui fa fatica una difesa a 4 a fare il centrale pure una difesa a 4 mentre addirittura centrodestra ti crea qualche scompenso è chiaro che devi sperare o comunque devi forzare anche la partita sempre con partita di dominio e lì vai a mascherare quelle che secondo me sono ancora magagne poco simpatiche dal punto di vista difensivo però per il resto molto molto positiva la prestazione dell'italia al di là del 2 a 1 al di là degli grandi errori sottoporta e del grave errore a inizio gara devo dire l'italia convincente sarà che non mi aspettavo una bella prestazione così una bella italia e quindi sono rimasto piacevolmente colpito dall'altra parte albania si è rivelata troppo timida troppo timorosa forse complice anche quel gol iniziale che ha acuito la volontà di difendersi perché poi certo grandi meriti all'italia non hanno visto la palla praticamente per il 75 per cento del tempo però poi si è visto che negli ultimi minuti complice anche risultato ancora in bilico qualcosa in più potevano fare e l'italia qualcosa in più poteva concedere un saluto